Buongiorno dalla Grotta Rosa, Maggisano, vi passo l'inviato speciale Pino Canino E grazie a Salvatore Tozzo, architetto che ci ha invitato oggi qui a Maggisano per fare questa bellissima escursione Queste sono le persone da imitare Esatto, esatto E qua abbiamo un po' metà della nostra compagnia Professore Cristaldi Camillo Il nostro, la nostra guida E anche il nostro poi Ciao, ciao Bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie 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 a tutti.